Il cancro al seno a colpi di pagaia si può, aiutando così il recupero fisico e psicologico dopo l'intervento. A Torino, dal 2010, le dragonette, le donne in rosa del Dragon Boating, l'associazione fondata da donne operate di tumore al seno, hanno fatto di una particolare attività sportiva un modo per promuovere il benessere e prevenire l'infedema. Prima c'era il concetto che la donna che era stata operata al seno non poteva fare sport, non poteva muoversi perché si pensava che l'infedema venisse creato proprio dall'attività sportiva. Tutto è nato in realtà con il professor McKenzie dell'Università Columbia di Vancouver, che nel 1996 ha messo insieme 25 donne in una barca. Per cinque mesi ha studiato questa attività sia in acqua che a terra e non solo ha visto che l'infedema non veniva, ma che proprio la qualità di vita della donna migliorava. La disciplina del Dragon Boat, che si pratica su imbarcazioni decorate con testa e coda di dragone è spinta da 20 atleti, il cui ritmo di voga è scandito dai colpi di tamburo, si basa proprio sulla tecnica della pagaia, che se utilizzata correttamente contribuisce a prevenire le complicazioni post-operatorie, generando un linfodrenaggio naturale. Il gesto tecnico va a lavorare sui cosiddetti muscoli forti, quindi gli addominali e i dorsali, pochissimo sui pettorali, che ovviamente sono invece spesso compromessi dall'intervento, e va ad utilizzare le braccia proprio per una mobilitazione che aiuta al riflusso della linfa. Le dragonette sono oggi una realtà sportiva a tutti gli effetti, riconosciute dalla Federazione Italiana di Dragon Boat e protagoniste delle principali manifestazioni italiane e internazionali. Anche per questo, a ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, hanno incontrato ed invitato in barca tutte le donne che desideravano conoscere e avvicinarsi alla loro attività, contribuendo così alla campagna di sensibilizzazione sostenuta, tra gli altri, dal Consiglio regionale del Piemonte, che è aderito anche a Life is Pink, a sostegno dell'Istituto di Ricerca di Candiolo. Una volta che si sale sul dragone e si comincia a pagaiare, dicono le dragonette, tutti i pensieri svaniscono, la mente si libera e il peso della paura si allontana. Avere a fianco una donna che ha passato quello che sto passando io è chiaramente uno sprono, un esempio da seguire.